41. Hai bisogno di te. Centro spirituale Frattocchie, attraverso Matteo. Non devi fare, ma sentire. Fare e non sentire non ha alcun valore. Ciò che ti segna è ciò che senti. A nulla varranno gli sforzi fatti per ottenere, poiché ciò che devi ottenere da te stesso e una buona stabilità vibratoria, in grado di portarti all'equilibrio e di poter quindi discernere ciò che sei da ciò che fai. Molto spesso non fai ciò che sei, ma ti trasformi in quello che fai, credendoci quasi fino in fondo, ma fino in fondo non potrai crederci mai se non si tratterà di verità scritta e risonante in te. Puoi trovare la forza collegandoti con l'energia della forza, quell'onda vibratoria su cui ora viaggi sporadicamente e senza esserne consapevole, ma ogni volta che ti ci colleghi è sempre un pochino più vicina a te e ti penetra sempre un po' di più. Se la scegli, ti aiuterà a comprendere, a sentire e a migliorare. Non parliamo di forza intesa come violenza, ma come energia benefica, in grado di darti una maggiore concentrazione e una maggiore spinta in tutto. Hai abbandonato la tua onda d'amore sulla quale viaggiavi da neonato, poi un po' meno da bambino, ed ora sempre meno, ma quell'onda è ancora in te ed è pronta a collegarti con la sua fonte, quella che l'alimenta e che se consapevolmente fai vibrare in te ti porta a sensazioni bellissime di cui ora hai soltanto sentito parlare. Non hai bisogno di manuali per essere te stesso, non ti servono omini verdi per farti credere nella vita universale, hai bisogno di te, di maggiore attenzione in te, nei tuoi movimenti emozionali, che altro non sono che onde energetiche che ti arrivano dall'esterno, ma giungono nel tuo interno perché in te ce n'è il richiamo.